Sono Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, siamo qui oggi nella giuria e abbiamo partecipato anche noi con Open Camera Cosenza. Io penso che il coraggio è tutto, non male con le risorse umane, alcune decisioni anche da imprenditori vanno preso così, con una decisione forte e con coraggio, quindi sfidando anche alcune volte anche degli ischi che ci sono. Io penso che una buona base è il coraggio di poter affrontare qualunque tipo di problema, anche a livello imprenditoriale. Il coraggio noi l'abbiamo anche avuto con decisioni forti e su questo forse siamo stati vigenti perché poi in qualche modo ci è andata bene, ma molte volte ci è andata male, ma da quel male poi abbiamo fatto qualcosa di bene. Penso che i metodi e gli strumenti sono molto necessari se c'è un fattore umano che mettono all'interno degli strumenti. Gli strumenti da sole non vanno, se c'è del fattore umano, quindi la passione, il coraggio e quindi la sfida, si mettono all'interno degli strumenti e un'arma vincente. Ho fatto l'esempio di Colombo che non è andato lì per scoprire l'America, è l'esempio nostro di Open Camera. Ci siamo ritrovati in parte in problemi grossi che ne abbiamo fatto un successo enorme sulla trasparenza e di coinvolgimenti di tutto il personale, nonostante di personale, come dire, è stato maltrattato per potersi adeguare alcune cose, ma poi l'hanno portato avanti loro e quindi è un grande successo su questo. Quindi da un errore ne abbiamo fatto un successo su questo. Funziona molto bene e l'abbiamo fatto con Open Camera a Cosenza.